Ci sono, sono pronto, sono pronto, va tutto bene, va tutto bene, va assolutamente tutto benissimo, pronti, potrei usare armi ultra pesanti e fare damage control alla distanza, questo è vero, però, cioè potrei stordirlo colpo dopo colpo, però ci sta, vediamo da 1200, 2003, oh, vediamo se aumenta di più, vediamo se ogni perry aumenta il danno di più, no, ok, ok, un perry aumenta il danno, ok, Fottiti, non mi arrendo, non ti lascio fare, curati stronzo Va bene Ho sbagliato il tempismo di schivata io, come una gran sega No dai, era velocissimo questo Via, 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 via Giusto Scemo io Beh No Hai ragione, cioè in pvp questo ti deve fare Se c'è un pattern che si ripete Ok Bene Sto perdendo i buff, come se non ci fossero domani Uh Suco Worth it Worth it No Eccoci Curina Restronzo E fece la stastamina figlio di puttana Basta Basta Ma quanti attacchi fai Bru E che sai win, sei? Col doppio attacco Che puttana Quel gamberto devo usarlo Via Ma Dio ha battuto Ecco Questa è una Di quelle belle notizie Spadone, gabbia nera E tutto lo set VU Non No